Ciao a tutti e bentornati a Duferre e Boldran, siamo qui con il filosofo e l'economista. Come stai Michele, tutto bene? Tutto bene Riccardo Duferre, ma senti diciamolo che abbiamo avuto problemi, dai che siamo qui. Sì, sì, è la terza volta che cerchiamo di registrare. Gli dèi sono contro di noi. Esatto, esatto, forse è perché stiamo veramente con l'argomento di oggi per toccare i poteri forti, i poteri dei gilet gialli, cavolo, dei gilet jaune. Secondo me è questo. Io prima avevo fatto la battuta a Riccardo nei tentativi che ci hanno poi dinamitato, che con il nome suo e il mio, io qui in America da 35 anni mi prendono per una signora francese, si aspettano sempre tutti Michel Boldran. ho una serie di aneddoti, uno più divertente dell'altro, anche situazioni ridicole, imbarazzanti, successe, e invece gli spunta l'economista maschio italiano. Lui è Ricc Duferre e oggi parliamo di Monsier Macron. Dovremmo farne il francese, ma il mio francese fa schifo. Mi vergogno. No, io in realtà il francese lo conosco abbastanza bene. In realtà a me il nome Ricc Duferre mi è stato affibbiato dalla mia professoressa di francese alle medie. Cioè io vengo chiamato Ricc Duferre fin dalla prima media. C'è un retroscena, mi piaceva molto il francese. Ah, bello, bello, bello. Hai visto? Ti raccontiamo qualcosa. Quindi la signora ti chiamava Ricc Duferre perché tu eri Riccardo Alferro. Bravo. E tutta la classe mi odiava. Allora dai, torniamo a Roma. Torniamo, torniamo. E quindi parliamo di Francia oggi ragazzi. Parliamo di Francia. Michele in questi giorni ha pubblicato un bell'articolo sull'inchiesta, che vi linko sotto e vi consiglio di leggere. Un articolo che mi vede molto in sintonia e vorrei porre una questione a Michele, proprio fare una domanda. Partendo da Macron. La domanda è questa. Secondo te Michele, intanto se ti aspettavi il modo con cui Macron ha reagito, cosa che mi ha spiazzato molto, sinceramente non me l'aspettavo quello che è avvenuto, e in secondo luogo questo non crea un precedente devastante per tutto quello che è il progetto europeo, e secondo te cosa succederà? Allora, sì, domanda importante. Devastante no, però è un guaio. Va aggiustato, passo indietro, eccetera. Adesso sviluppiamo i variamenti. Me l'aspettavo un pochino. Perché? Perché la sensazione dai colloqui con amici francesi è che sotto... La cosa di Gilegione è nata spontaneamente, però a un certo punto è stata molto pompata. C'è tutta una parte di establishment francese, e non solo le ali estreme, le penne Melanchon, ma anche proprio di apparato, che sarebbe ben contento di eliminare Macron anche a un prezzo per il paese. E quindi questa grande simpatia e questa grande diffusione mediatica aveva un aspetto. Lui, credo ne sia cosciente, è uno antipatico, obiettivamente lo è, ha preso questa strada che è metà di durezza, metà di cedimenti su alcune cose, metà di... è uno freddo convinto che tutta la vita prima della classe, molto distaccato, ha provato a dire, ma mi sbaglio anch'io, scusatemi, non so come funzionerà, vediamo. Quindi questo è il quadro. Adesso, in tutto questo, vediamo di trarne una morale, se vuoi. No, rispetto all'Europa, rispetto alla Francia, non so come vuoi cominciare. Quindi da tu che sei più bravo di me su questo. Ma guarda, in realtà io nel fenomeno dei gilet gialli, io mi ricordo che lessi un articolo proprio di un giornale francese all'inizio del fenomeno e dissi fra me e me, visto come è stata impostata quella famosa tassa sulle accise sul carburante, in realtà all'inizio la ragione stava dalla loro parte, perché è stata proprio pensata male quella tassa lì da Macron, perché se da un lato è corretto pensare di rinnovare l'economia energetica attraverso anche un intervento fiscale, però il modo con cui è stato fatto, a mio parere, è stato completamente sbagliato perché sarebbe andato a pesare sui redditi più bassi. Quindi all'inizio, all'inizio poteva anche avere il suo perché e poi io mi ricordo questa cosa, mi ricordo che in due o tre giorni è diventata un'altra cosa completamente, ma è stato repentino il cambiamento. Al che io mi chiedo, la mossa che ha fatto Macron, quindi questa mossa di concessione, perché poi è una concessione, lui ha parlato di innalzamento della spesa pubblica, mi sembra 10 miliardi tra l'altro, quindi sì, forse per i conti della Francia sostenibili, ma comunque sono due manovre, una manovra e mezza italiana. No, 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 lascia che ti fermo subito. Dunque, le cifre in questione sono poca roba, ragazzi, da sola, da solo la quota 100 costa 14 miliardi tutti gli anni. Ok, ok, ok. Ok, l'economia francese è più grande della nostra, non di molto perché la popolazione è leggermente superiore al reddito, lo è abbastanza. Quindi non è una cifra comunque che va ridimensionata in proporzione. Allora, il deficit francese, ci chiamo di capire, ci sono vari aspetti. Allora, l'aspetto più pericoloso è il seguente, a mio avviso. Un presidente che vuole fare il tecnocrata, che ha grandi progetti, eccetera, che, sono d'accordo con te, sbaglia completamente l'approccio a un progetto di lungo periodo, perché questa roba della tassa, mi auguro che non fosse stata concepita come una maniera italiana di raccogliere soldi al volo, ok? Proprio me lo auguro. E quindi doveva essere parte di una certa visione, chiamiamolo verde, adesso non voglio mettermi a discutere se io sono d'accordo o meno, altrimenti non finiamo più, ok? Certo, certo. Se la fai così male, insomma, sei un po' imbranato, ecco, capiamoci, devi ripensarci. Questo è un punto che va fatto. Dopodiché, però visto che l'hai fatto, non cedi alla piazza. E' quello il punto fondamentale. E' quello, non cedi alla piazza in quella forma, non cedi proprio alla piazza incontrollata, auto-organizzata, scatenata, perché crei un precedente folle. Quindi questo è l'aspetto più grave, secondo me, della questione. Per quanto riguarda l'aspetto bilancio europeo e tutte le cose che si stanno discutendo in Italia, ho visto emergere follie, con alcuni me la sono anche presa, ma è la solita problema dello tsunami di merda, per cui non si può fermare, di, ah, visto i francesi, peggio di noi, poi se la prendono noi, quelle sono tutte stronzate. Se vuoi, dopo, passiamo cinque minuti, vorrei spiegare perché sono delle boiate. Ma questo assolutamente volentieri. Però è proprio quello lì il punto che mi preoccupa molto, il precedente. Perché di fatto, quello a cui abbiamo assistito, è una cosa che avviene periodicamente, nel corso della storia, ovvero il momento in cui due poteri vanno a scontrarsi. Perché poi è inutile star qua a fare il discorso che si fa spesso sui poteri forti, da una parte l'Europa e dall'altra i deboli. No, in realtà il movimento dei gilet gialli ha dimostrato tranquillamente che il cosiddetto leverage ce l'ha, anche la parte, diciamo così, della popolazione. È che io mi sarei aspettato delle, come dire, mi sarei aspettato una revisione della fiscalità inerente, cioè diciamo così, ciò che aveva mosso all'inizio la protesta. Quindi che Macron avrebbe rivisto la tassazione sui carburanti, eccetera, eccetera. Però in realtà nel discorso che ha fatto Macron di questa cosa qua non c'è stata traccia. E questa secondo me è una grande vittoria di quelli che sono i populismi. Perché? Perché ci si è dimenticati, si è dato un colpo di spugna su quello che era, a mio parere, la legittima richiesta iniziale. Non fate gravare questo tipo di politica energetica su chi magari non può permettersi di cambiare la macchina, ok? Fondamentalmente. Questo è quello che era la richiesta iniziale. Si è dato un colpo di spugna, ci si è dimenticati di questo. E invece si è concentrata tutta quanta l'attenzione sulle richieste che poi sono venute dopo. Quindi, tra l'altro, quel programma delirante. Io ci ho anche fatto un podcast su quelle che erano le richieste. Ma è veramente delirante. Sì, ci ho fatto un podcast perché io, quando mi sono letto le richieste, ho detto, qui c'è pura schizofrenia. Cioè, qui si chiede un aumento dell'occupazione attraverso un aumento sfrenato della spesa pubblica. Che è un po' quello che dicevi tu, tra l'altro, quando hai parlato, cioè, nell'articolo dell'inchiesta. Dove dici, giustamente, a un certo punto, guardate che il grande pericolo è quello di far passare il messaggio che la crisi attuale sia stata prodotta non proprio dalle politiche di spesa pubblica, ma che queste siano la soluzione. Quando nella realtà dei fatti, hai fatto l'esempio giustissimo di quota 100, quello che sta succedendo è che ci sono delle persone che danno credito a pensionati, a comunque classi che non sono produttive, a discapito di quelli che dovrebbero invece effettivamente produrre. Quindi i giovani, quindi le aziende, i professionisti, le imprese. e quindi questo rovesciamento... Dunque, separiamo un po' i problemi. Allora, chiariamo che siamo d'accordo. Mi pare che siamo d'accordo. Lui ha fatto proprio un errore politico. Sono d'accordo che con te cedere a quella parte lì, però lì c'è il trucchetto, cedere a quella parte lì di spesa pubblica è più facile. Perché evidentemente sugli altri aspetti loro, il suo governo, se non vogliono entrare nei meriti, ha una visione di lungo periodo su come cercare di ridurre il consumo energetico inquinante. Quindi loro ritengono che vada di là. Quindi, vabbè, stabilito la questione politica, veniamo alla questione economica. Sì, la questione economica di fondo è quella, no? E allora, qui ci sono due affermazioni da fare. Una, che è proprio culturale, siamo nei guai, è quello che dicevo nell'articolo, siamo veramente nei guai, perché ha vinto a cross in moltissimi paesi europei. l'Italia è la quasi totalità del paese che lo crede. In Francia, in altri paesi c'è una buona fetta, probabilmente la maggioranza, ha vinto in questi paesi, non in tutti, ma ha vinto in questi paesi l'idea che la crescita, il benestare, il progresso è frutto della spesa pubblica. E questa è una follia. Questa è la vera grande sconfitta e questo è il frutto, e quello lo dico chiaramente in quell'articolo, questo è il frutto non tanto e non solo delle varie propagande grilline, leghiste, populiste, questo è il frutto delle politiche praticate dalle elite europee, italiane in particolare da 40 anni a questa parte, che hanno convinto la popolazione che così è. Certo, anche perché si è creato questo rovesciamento, cioè si pensa che la produttività sia conseguenza dell'investimento pubblico, che in realtà è l'esatto opposto, cioè ci sono gli investimenti pubblici perché la produttività permette quel surplus economico che è quella che poi viene chiamata redistribuzione, chiamiamolo in tutti i modi in cui vogliamo chiamarle. E credo che sì, questo problema... Esattamente, esattamente, questa è la cosa più grave della lezione francese e lo stesso sintomo c'è in Spagna. La Spagna che è stata abbastanza esente in tutti questi anni da questa spinta a, io direi, suicida, adesso un po' con l'emergere di Vox, un po' con le vari casotti legati interni a Podemos, il PSOE che sceglie di riscoprire la sua anima populista che sembrava abbandonata ormai da 30 anni, devo dire, anche grazie a Felipe Gonzales e poi a Zappatero e quindi riemerge questa visione e questo sì è un problema perché noi sappiamo che questa cosa non funziona, platealmente non funziona, non solo non funziona ma non si riesce neanche più a fare perché oramai è palese nel mondo che la disponibilità della gente di prestare i soldi a vanvera a governi che poi li sprecano in sussidio e pensione non è più così alta e quindi farlo, scegliere quella strada vuol dire decidere di vivere pericolosamente ora per te e me magari tu sei giovane io quando avevo 30 anni vivere pericolosamente era divertente per un paese vivere pericolosamente non è la cosa raccomandabile un paese è meglio che non viva pericolosamente assolutamente assolutamente ma guarda il discorso che tu fai qui mi fa mi fa venire in mente vabbè tantissime cose in realtà però uno su tutti che non c'è minimamente la percezione di quale sia il legame fra denaro e ricchezza cioè nel senso c'è questo fraintendimento enorme che il denaro può essere creato perché il denaro è un parametro legato a che cosa alla fantasia ai bisogni come se il denaro dovesse rispondere ai bisogni esistenti ma il denaro non risponde ai bisogni esistenti il denaro rappresenta la ricchezza che circola e se tu non produci ricchezza non c'è più neanche denaro mi sembra che sia quella infatti questo è un meccanismo un po' paranoico quello che si sta creando in tutta Europa con tutti i movimenti che hai citato perché è proprio la convinzione che il proprio immaginario di cui i nostri bisogni sono proprio impregnati debatteremo fare su quella che è poi la valutazione della realtà e che quindi sia il mondo che deve adattarsi ai nostri bisogni e questo i gilet gialli rappresentano esattamente questo e la cosa divertente sai quella la cosa divertente è proprio la lettura del loro programma che è autocontraddittorio in un sacco di punti cioè se tu leggi il programma il programma poi le proposte lanciate da questo movimento le une cozzano con le altre in maniera in maniera completa voglio dire si dice aumentare la produttività e l'occupazione però poi si dice che bisogna ipertassare quelli che sono i grandi centri commerciali che voglio dire sono attualmente attualmente possono possono piacere o meno il centro commerciale a me non piace neanche particolarmente io se posso evitarmelo me lo evito però è indubitabile che oggi sia un fulcro di produzione economica straordinario se tu vai a deprimere l'economia di quelle realtà com'è che fai a pensare di poter aumentare l'occupazione e c'è un'altra cosa sai qual è la parola che proprio quello lì dimostra esattamente che poi il nucleo filosofico di questo movimento è un nucleo vetero marxista di quello peggiore c'è la parola contro a un certo punto si dice in queste proposte che la tassazione deve andare contro le grandi multinazionali le industrie particolarmente efficienti e ovviamente anche i grandi centri commerciali quella parola lì contro Michele nel 2018 nel 2018 vedere che un popolo si muove contro però Riccardo il problema è che quel tipo di cultura quel tipo di visione del mondo è rimasta radicatissima nell'Europa mediterranea e questo è alimentata da un misto che devo dire che è di destra e di sinistra cioè in un certo senso ha vinto il 77 io lo dico da tempo infatti per chi ci ascolta ed è molto come dire non molto intellettuale insomma riesce a leggere cose lunghe andate sul vecchio noise fra l'America che ogni tanto esiste ancora su cui metto lì io non solo e altri le mie note c'è una sequenza che sta arrivando al capitolo 7 ma continuerà di riflessioni mie sul governo rossobrunato e il governo rossobrunato che è quello che governa l'Italia la cultura e il populismo sono in realtà la vittoria del 77 non del 68 sono tutti lì col 68 non è il 77 perché il 77 era la contraddizione era il voglio i miei bisogni realizzati dammi la roba era la mia azione la voglia ubriaca e la botte piena continuamente e hai puntato il dito ed è il 77 è diventato una cosa di destra e sinistra è diventata una cosa extra ha informato di sé quella generazione e purtroppo anche quelle seguenti ed è diventata la cultura dominante quando io ascolto i giornalisti italiani e non solo italiani mi rendo conto che pensano così che c'è questo diritto ad avere tutto il contrario di tutto ma anche perché poi abbiamo un problema di lungo periodo per l'Europa io e te abbiamo parlato di come dire in futuro provare a riflettere sui casini europei il destino dell'Occidente io lì ci vedo ci vedo proprio una radice profonda di un problema culturale sì sì assolutamente assolutamente e non lo so ecco lasciami dire su questo vedo un elemento mediterraneo latino non so come vuoi chiamarlo che ci differenzia da Brexit dalla Germania dall'Olanda dalle reazioni fascistoide o nazionaliste di là eccetera eccetera forse mi sbaglio forse mi sbaglio però io vedo vedo una cioè Brexit e i gilets jaunes non sono la stessa cosa anche se possono avere come causa una simile scintilla ma potrebbero in realtà potrebbero essere movimenti che di per sé non sono correlati ma che contribuiscono allo stesso non obiettivo perché non credo ci sia un'intenzionalità dietro queste cose qua lo stesso la stessa visione ecco che è una visione una visione di impoverimento poi perché di questo di questo si tratta io credo ti lancio una provocazione credo che sia il momento in cui questo questa visione sta trionfando anche perché oltre al fatto che è ciclica nella storia capita spessissimo che dopo un periodo di grande crescita di floridità economica sociale poi a un certo punto c'è il momento di depressione in quel momento di depressione cosa succede che la prima risposta non è rimettere in moto i meccanismi virtuosi del passato ma prima creare una recrudescenza un pestare i piedi letteralmente perché poi di questo si tratta cioè i gilet gialli così come anche la Brexit da questo punto di vista è stato un pestare i piedi né più né meno come l'adolescente che si vede tolta la Playstation perché non studia a scuola e si mette a pestare i piedi fondamentalmente però dall'altra parte ed è questa la cosa che un po' mi ha scosso del discorso di Macron è che la politica cerca consenso cioè quello che Macron ha fatto ed è la cosa che mi preoccupa è che di fatto lui ha detto sai cosa tutti gli ideali tutte le idee con cui sono arrivato qua con cui ho fatto così tanto casino in realtà sono meno importanti rispetto al restare sul mio seggio e in questo senso non si è rivelato si è rivelato per niente di simile a tutti i pagliacci che abbiamo visto susseguirsi insomma beh 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 su questo sei ancora sei un po' pesante dai no su questo io non sono forse il mondo non c'è ecco io non ce la non ci sto a dividere il mondo zero uno nel senso che nella politica c'è un meccanismo di consenso se ti trovi in una situazione in cui sta andando tutto a gambe all'aria provi a a fermare la cosa adesso prima di impiccarlo nella classifica di è uno dei tanti voglio vedere le sue prossime mosse sono d'accordissimo su questo su questo brutto angolo che ha dato un brutto segnale dire è un altro no è un è un Renzi sta affrontando il tutto con una dignità superiore per esempio a quella di Renzi su questo va anche bene che dissentiamo io dico la mia tu di la tua cioè per esempio lui ha provato ha preso delle decisioni politiche forti in Francia in una direzione che era quella che lui aveva promesso quindi su quello è stato coerente non ha fatto i giochetti renziani di cercare di comprarsi consenso con stronzetti ha avuto una reazione forte su alcune dimensioni ha ceduto anche andando in televisione a dire mi sono sbagliato cosa che per esempio al nostro Renzi non riesce non riesce per niente questa è una cattiglia di Boldrino ti lascio la parola cioè io insomma semplicemente non sono disposto ancora a impiccarlo no no ma io sono perfettamente infatti io seguo con interesse insomma quello che succederà però dall'altra parte ti dico anche che la sua cioè l'atteggiamento vabbè io non l'avrei fatto il paragone con Renzi anzi meno penso a Renzi meglio è ma in realtà diciamo così bisogna anche contestualizzare i due personaggi cioè quello che fa Macron quello che ha fatto Macron un paio di giorni fa va a inserirsi in un contesto che è molto più esplosivo rispetto a quello in cui agiva Renzi ed è per questo ed è per questo che mi ha stupito perché io credevo lui avesse perfettamente grande consapevolezza di quali sarebbero state le conseguenze di qualsiasi suo gesto ecco io credo che la direzione che ha preso sia proprio la peggiore perché adesso prenderanno coraggio tutti quanti ed è quello che sta succedendo prenderanno coraggio tutti e sai cosa temo? temo il fatto che magari allora secondo me Macron politicamente è andato a incunearsi cioè vivacchierà per qualche mese ma io non lo vedo non gli do vita lunga politicamente dopo questa cosa il problema qual è? il problema è che Macron è comunque forte e io mi chiedo qui in Italia chi potrebbe mai arginare una avanzata di gilet gialli o verdi o rosso bruni o quello che vogliamo perché in Francia c'è ancora la forza ma in Italia i gilet gialli sono al governo eh sì il problema è che io credo credo beh questa è una una sorta di lettura che faccio io che spero venga smentita credo che il peggio non l'abbiamo ancora visto perché non so mi viene in mente mi vengono in mente tutte le cose su cui il governo giallo verde comunque ha tra virgolette disatteso le aspettative dell'elettorato che sono tante non possiamo mentire sono ancora tante quelle che o non hanno fatto o non vogliono più fare o hanno fatto al contrario e io mi chiedo cosa succederà perché potrebbe essere potrebbe essere che la piazza italiana finisca per guardare anche a questo governo persino a questo governo come ha una sorta di nemico e perché no no anche qui è bello che oggi finalmente abbiamo dei disaccordi anzitutto ricordiamoci la piazza francese ha una tradizione pluricentenaria di essere una piazza durissima questo Thomas me lo ricorda assieme ragazzi la Francia è quel paese che a Parigi ha tagliato le teste i re hanno fatto la rivoluzione in Italia non siamo capaci quindi in Italia ma anche perché in Italia il re non hanno testa quindi ci sono delle differenze io sono d'accordissimo con te ci siamo infilati in centomila argomenti che il governo questo qua sta deludendo le promesse che ha fatto i suoi ma in Italia c'è anche una componente simbolica molto forte molta gente ha votato per questi qua per puro fastidio e odio e disprezzo e rigetto di quelli di prima è proprio per quello che dico fastidio e disprezzo a mio avviso motivatissimo purtroppo andava espresso con l'astensione non votando Salvini e Di Maio ma è proprio per questo che dico è un elettorato che vota con queste motivazioni ci mette un attimo un attimo ma proprio così a radicare ulteriormente la sua visione delle cose e a cercare e questa è la cosa che mi preoccupa se emerge qualcuno che fa delle promesse più convincenti e convince l'elettore italiano che questi sono una banda discapestrati diciamo così per essere eleganti l'elettore italiano si sposta purtroppo questa è una caratteristica nostra però sai questo io non ce lo imputerei a Macron tornando al punto Macron ha fatto una cosa che può essere si risolva bene per lui se è capace di dare spinta politica e convincere la gente che ci sono altre cose che può fare per come dire far condividere i guadagni economici a più persone nel suo paese oppure avrà un risvolto pessimo perché si è compromesso come leader politico europeo e ha aperto una porta a una stagione di continue richieste che gli distruggerà il bilancio pubblico tra l'altro scusa faccio l'economista l'altra cosa da dire purtroppo non avremo il tempo oggi di riflettere che mostra però quanto profondo è il problema è che la Francia è un paese in cui praticamente socialista cioè in Francia la spesa pubblica è il 57% del PIL se a quello aggiungi la parte di economia pseudo privata che il governo francese e lo stato francese controlla è un paese dove il 70-75% del prodotto interno lordo è in una maniera o l'altra statalizzato e non basta il che fa capire che questa domanda che tu chiamavi prima dei bisogni non ha limiti no no assolutamente assolutamente e quindi abbiamo un problema l'adolescente pesta i piedi finché qualcuno non lo butta dalla finestra Michele cioè è così non ha limite eh sì tesoro però allora abbiamo un problema grosso cioè se questo è appunto e ritorniamo alla storia del 77 se la domanda i cosiddetti bisogni la richiesta di soddisfazioni e trasferimenti è diventata tale che non c'è limite neanche fisico abbiamo un problema politico che va al di là del singolo personaggio del singolo bilancio della comunità europea che dice che è controllata vi capisci perché questo che a me ha fatto pensare della Francia cioè un paese dove una fetta grande della popolazione non maggioritaria a mio avviso sono stati molto bravi a far casino ma non era niente maggioritaria esplode chiedendo più spesa pubblica e hanno cavoli due euro su tre che circolano in Francia sono di mano dello Stato sì sì incredibile incredibile sì no è assolutamente così assolutamente così beh poi allora ci citeremo per un'altra puntata la questione se si finirà per fare la moneta la moneta di serie B perché è quello che è successo voglio dire in tanti paesi nel momento in cui la spesa pubblica non è più sostenibile si fa la moneta di serie B e magari questo ce lo teniamo come ragionamento per una delle prossime volte che ne dici ok sì l'argomento oggi era tanto per cui ci si ma niente mi sa che siamo abbiamo anche sforato col tempo sì siamo a 27 minuti e ci abbiamo sicuramente tutta la gente che ci sta mandando a facculo quindi vabbè sì oggi 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 i tuoi ascoltatori vabbè però è grosso è una cosa grossa hai fatto bene a tirarlo su in realtà abbiamo come al solito abbiamo cercato semplicemente di lanciare un sacco di spunti poi come giusto che sia saranno i nostri ascoltatori a farsi la loro idea magari con un commento dirci cosa ne pensano senza in mezz'ora di video non si può ovviamente esaurire un argomento del genere e sicuramente potrebbe essere interessante portarlo avanti in maniere diverse quindi 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 io direi che per oggi chiudiamo qui noi non facciamo promesse elettorali particolari vi promettiamo che però sabato prossimo ci sarà di nuovo la puntata quindi questo è quello a cui possiamo limitarci io e Michele io ringrazio Michele per per le opinioni e niente ragazzi ci sentiamo presto ci rivediamo sabato prossimo con questa rubrica e con i prossimi podcast buon weekend a tutti quanti